Terremoto negli alti vertici del comune di Caltanissetta, due dirigenti dell'ufficio tecnico sono stati arrestati con provvidimento ai domiciliari ed altri interdetti per un anno dai pubblici uffici per un sistema di appalti e concessioni di lizio al cimitero Angeli, coinvolte le società di mutuo soccorso che venivano favorite nella costruzione. E' stato detto spropositata, strutture simili a palazzine. I due arrestati sono Armando Amico, ex capo dell'ufficio tecnico, e Giorgio Salamanca, funzionario dello stesso ufficio per il quale si è parlato addirittura di un sistema salamanca, un sistema consolidato nel tempo che favoriva le aziende edilizie a lui vicine anche con interessi familiari, commettendo abusi d'ufficio falso. I reati contestati sono anche concussione e corruzione. Coinvolto anche il ragioniere generale del comune di Caltanissetta Claudio Bennardo che è stato interdetto per un anno dai pubblici uffici per una vicenda che riguarda falso in bilancio e un conto corrente di 800 mila euro sempre del comune che non veniva messo all'interno dei bilanci comunali. E anche il direttore del cimitero Vitto di Palma al quale è stata data l'interdizione dai pubblici uffici per un anno. E poi ancora il geometra Silvio Baglio del comune di San Cataldo, gli imprenditori Calogero Ivano Venniro di Caltanissetta, l'imprenditore Salvatore Ficarra di San Cataldo e poi l'ingegnere Lanzafame, Salvatore Lanzafame ed il geometra Salvatore Longuega entrambi impiegati nell'ufficio tecnico, nonché i provvedimenti di sequestro per alcune imprese edilizie come la 2B Costruzioni SRR che è la ditta individuale Venniro Calogero. E poi ancora sono stati sequestrati provvedimenti restrittivi, nonché mezzi e beni strumentali delle stesse ditte per 1 milione e 500 mila euro. E poi ancora sono state sequestrate le società di mutuo soccorso Regina Margherita, la Società Cattolica di Santa Maria della Catena e poi ancora la Società Militare in Congedo, la Società Rosso di San Secondo, la Onlus Lams e la sezione Calogero Zucchetto.